Sfila molto dura, partita che bisognerà giocare con la massima intensità e con il massimo coraggio possibili anche per compensare un po' le situazioni di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questa pre-season però siamo tutti molto contenti di poter cominciare a giocare. Sì, stiamo lavorando tanto, abbiamo lavorato bene sicuramente perché con il completamento del roster siamo riusciti anche a sviluppare finalmente un po' di lavoro globale, di situazione e quindi siamo anche molto più confidenti e più in fiducia rispetto ad alcune situazioni tecniche o tattiche e speriamo di regarcelo un po' a tutti la vittoria anche se sarà veramente una sfida di quelle veramente con molto 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 difficili.